Le ultime anticipazioni di Amici 21 sulle puntate della domenica sono arrivate. Oggi c'è stata l'ultima registrazione e i professori hanno assegnato le ultime maglie per il serale. Ma a catturare ancora di più l'attenzione in queste anticipazioni è John Montana. L'allievo è da poche settimane nella scuola ma ha avuto un percorso con parecchie turbulenze. L'ultima è arrivata in settimana ed è stata l'eliminazione, Anna Pettinelli ha eliminato John Montana durante i daytime. Ha ritenuto opportuno mandarlo a casa dopo aver creduto in lui perché si è resa conto che non sarebbe riuscita a formarlo in tempo per il serale. A lanciare un salvagente a Joe è stato Rudy Zerbi, il suo nuovo professore. In realtà era stato proprio lui a vederlo durante i casting di inizio febbraio, ma senza dargli un banco. Dopo pochi giorni lo ha fatto la Pettinelli. Zerbi ha accolto Joe nella sua squadra chiedendogli però di stupirlo nell'ultima puntata ed è successo, a quanto pare. E non avrebbe stupito solo lui visto che Joe Montana ha vinto la gara di canto di questa puntata. Il giudice della gara di cover è stato Malgioglio, che ha dato un bel 9 proprio a Joe Montana, facendo sì che il primo posto fosse suo. Una vera e propria sorpresa, visto come è andato nelle gare delle puntate precedenti. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!